Ti chiedo che effetto, se cambia un po' il modo di lavorare la testa dei giocatori, il fatto di essere probabilmente la squadra in questo momento rivelazioni insieme a altre due o tre, perché anche Lecce, Frosinone, la stessa Monza, però il Bologna anche dal punto di vista mediatico è individuato in questo momento giustamente come la squadra sorpresa di questo campionato. Sì, cambia, sicuramente cambia perché, come ho detto già prima, questo entusiasmo soprattutto trasmesso dai nostri tifosi è importante, messo nel modo giusto e tante altre cose cambiano. Le avversarie sicuramente guardano di più la nostra, noi continuare, attenzione, concentrati, impegnarsi sempre per essere pronti a affrontare la prossima partita. Partita importante per noi contro il Lecce perché la prossima è, come sempre, affrontarla al massimo delle nostre possibilità. Salve Motto, volevo attaccarmi proprio a questo, magari tu sei più abituato perché da calciatore hai sempre avuto palcoscenici mediatici importantissimi. In questo gruppo di ragazzi molto giovani, anche contro il Torino hai schierato la squadra più giovane, nell'undici più giovane del campionato, forse sarebbe anche più giusto chiedere a loro, ma hai visto qualcosa nei testi tuoi ragazzi cambiare nell'attenzione che ricevono dagli altri? Anche mediaticamente, è un gruppo che si esalta sotto pressione il tuo o continua a lavorare sempre nello stesso modo? Lavorare sotto pressione non è la stessa cosa di lavorare senza pressione, ma per tutti, per te, per me, per gli arbitri, per i giocatori è la stessa cosa. Ci sono quelli che hanno bisogno di un po' più di tempo, ci sono quelli che si esaltano quando si mettono sotto pressione perché amano questo. Noi siamo su questo lavoro perché sappiamo che tante cose belle e una di quelle cose belle è questa pressione, perché vuol dire che stiamo facendo bene, che stiamo nel lavoro dove noi abbiamo scelto con la consapevolezza già prima che esiste questa pressione e affrontarla nel modo giusto, prepararsi bene, essere pronti, entrare in partita e fare quello che sappiamo fare senza pensare altro, concentrarsi su quello che dobbiamo fare in campo. Ciao Tiago, volevo sapere per quanto riguarda gli esterni, Indoe e Sale Makers, come vedi la loro evoluzione soprattutto negli allenamenti perché sono più giornate in cui tu li hai davanti e quindi se hai visto dei particolari salti di qualità che hanno fatto, insomma, dimmi tu. Gli ho visti bene come tutta la squadra, come tutto il resto. In questo momento abbiamo esterni, esterni puri, abbiamo lui, Dani e Alexis perché sappiamo che gli altri due in questo momento non possono partecipare e stanno facendo il loro lavoro per il loro bene sicuramente, ma pensando sempre al collettivo, alla squadra. Nella prossima partita sarà la stessa cosa. In allenamento li vedo tutti e due molto bene come il resto del gruppo. Tiago, senti, ti riporto sostanzialmente un plebiscito, cioè tutti i tifosi, ma anche i tifosi cosiddetti VIP, vogliono che Tiago Motta resti qui a lungo. Guarda, io vedo perché, non tanto, ma quando vado a fare una passeggiata, i tifosi mi parlano della prossima partita. No, 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 perché vogliono continuare a avere questo entusiasmo, o trasmettere anche questo entusiasmo, questa energia positiva. e sanno che la prossima partita è importante perché è lì che possiamo mettere in pratica il nostro lavoro e affrontare al massimo l'avversaria e vivere quel momento lì, perché i nostri tifosi vogliono vivere questo momento. Stanno approfittando come il resto del gruppo qua dentro e mettendo tutta l'energia e pensando che la prossima partita è la più importante perché è lì dove dobbiamo essere al massimo. Quello che sento io quando vado fuori, poi voi avrete un'altra sensazione sicuramente, rispettabile, però io passo la mia esperienza quando ogni tanto vado fuori e incontro la gente. Sì. È giusto. Dico giusto, forse questa capacità di concentrarsi sul microciclo, sulla partita che viene dopo, è anche una conquista di questo gruppo, non è che fosse così subito. Io credo che faccia parte di quei miglioramenti che il lavoro ha portato e ti volevo chiedere se questo gruppo è arrivato a questo punto, qual è la cosa che è migliorata di più in questo gruppo? La concentrazione, la palla al piede, non lo so, ecco, una fase difensiva. Ecco, questo per dire quando sei partita era in una maniera, adesso sei così. Non è un miglioramento, è un modo di affrontare la situazione. Ci sono altre persone che riescono ad affrontare la situazione in un altro modo, anche pensando nel futuro, pensando delle cose che possono accadere. Nel mio modo, no, nel mio modo non lo so fare così. So vivere oggi e il presente, programmare, sì, programmare quale può essere il nostro futuro, ma senza fare bene oggi tutto il resto diventa molto opinabile, molto vediamo cosa succederà. Questo è il mio modo, però ci sono tanti altri modi di fare e fare bene. Non è che questo modo è l'unico, è come nel gioco. Nel gioco alla fine noi giochiamo per il risultato, è inutile dire di no. Però ci sono tanti modi di giocare per il risultato e non è che uno è quello giusto e io l'altro no. No, tutto è giusto finché si rispettano le regole e si fanno con coerenza. Tutto il resto, ognuno è libero di fare come vuole. Ecco, è completo. E i tuoi ragazzi, questo tuo modo di porsi di fronte all'obiettivo, cioè passo dopo passo, cercando di dare il meglio in quel momento, senza forse avere... Ecco, questo è una forma mentis che hanno acquisito, che dovevano acquisire, nella quale dovevano crescere. Non credo che tu li abbia trovati già così. Si lavora, questo sicuramente si lavora. E loro, fino ad oggi, hanno già dato questa predisposizione a questo metodo e al lavoro soprattutto, abbiamo dei giocatori che aderiscono perfettamente a questo modo di lavorare, di interpretare le situazioni e il gioco, però è lavoro. Alla fine loro arrivano qua al mattino, lavorano bene, si recuperano bene, lavorano un'altra volta, un'altra volta, un'altra volta e ricominciare, ricominciare, ricominciare e così andiamo in avanti. Un'ultima cosa da parte mia, chiedo scusa ai colleghi, perché nell'ultima partita parlavamo anche della posizione di mezzo a campo, un play, due... Le due posizioni, specialmente nel finale, che volevi, i due uomini sotto, diciamo, la parte offensiva. Fa parte della duttilità di questo gruppo oppure i due davanti, cioè Leibischer e Freuler di torno, ecco, diciamo, sono un punto di partenza, cioè i due davanti alla difesa sono forse un'idea di calcio da cui poi si parte per interpretare. Ah, ma sono tante cose, dipende del nostro momento, dipende dell'avversario che andremo ad affrontare. Tante cose che fanno che nel momento scegliamo uno o l'altro modo di giocare o interpretare le nostre fasi del gioco. L'ultima abbiamo scelto così e vediamo per Lecce come sarà la nostra composizione. Ciao mister, senti, in quell'esultanza di Fabian, lunedì, cosa c'era? Perché la sensazione, vedendola dalle immagini, è che da lì si capisce anche un po' l'unità che avete, no? Cioè, quelli che sono in panchina, lo staff, è come se fossero in campo con la squadra. Cosa c'era in quell'esultanza lì? Quell'abbraccio, insomma, con il tuo staff? Emozioni, perché alla fine è una partita complicata dove l'abbiamo sbloccata con un gol fantastico. E nel momento è entusiasmo, emozioni, sono tante cose insieme, di vedere una squadra che fa un bel gol e andiamo in vantaggio. Poi, dopo la partita, con il tempo, in modo di pensare, tante cose altre, è una cosa che ha detto, è il frutto del lavoro, soprattutto di questi ragazzi che si impegnano tantissimo, ma di tante altre persone del club e che ho fatto sempre e continuerò a farlo perché lo credo al 200%, che Giovanni va a finire a mettere la palla lì dentro. Ci sono tante persone anche che indietro, ognuno nel suo ruolo fa il suo lavoro perché le squadre possano funzionare. Proprio su quel gol di Fabian Misser le chiedo se è l'emblema, il manifesto del suo calcio, un difensore che parte da dietro con personalità, serve bocchema nel cerchio centrale del campo, che resta lì, studia l'azione, guarda i suoi compagni e poi crea praticamente un'assistenza per un compagno. Due difensori che oltre a difendere attaccano, è proprio il suo slogan, il suo motto per il suo calcio. Mi dà soddisfazione, la soddisfazione perché due difensori che attaccano nell'espazio, nella situazione di costruzione dove loro devono avere questa priorità. Poi se non arriviamo ad attaccare abbiamo altre cose da fare. Però se la prima cosa e abbiamo l'opportunità e la possibilità è superare la pressione di andare ad attaccare, è la priorità perché noi vogliamo fare gol. Ci sono tanti modi di andare a fare gol e solo capire il momento, la situazione e come sfruttare al meglio. E lì lo hanno fatto perfettamente perché, ripeto, quello che hai detto, Riccardo, invece di giocare indietro, ha visto una situazione che poteva portare palla. gli dà a Sam che ha visto un spazio per inserirsi e Fabian e Giovanni che hanno fatto un movimento fantastico in tre passaggi e andiamo a fare gol, che non è sempre possibile. E leggere il momento, se non è possibile, abbiamo altre cose che dobbiamo fare per arrivare a costruire una situazione di gol. e lì è una soddisfazione enorme come allenatore perché i ragazzi hanno fatto una giocata fantastica. Tiago, domanda velocissima. Guardi la classifica e cosa pensi? Non ho guardato la classifica. Buongiorno, le chiedo quanto sono stati importanti anche come paradigma delle caratteristiche del nuovo Bologna, dei nuovi parametri che accennava prima del Torino che è il Bologna, i primi 55 minuti della partita contro il Toro. Perché l'impressione è che questa sia una squadra che anche quando magari non riesce a fare le cose che vorrebbe in partita subisce pochissimo. Cioè, Skorupski alla fine parte il gol annullato ha fatto una parata e questo lo troviamo anche magari nei dati difensivi dove dicono che appunto voi concedete poco più di tre tiri nello specchio a partita che è un bel numero al di là della difesa che ovviamente incassa poco. Sicuramente è da continuare perché una partita come quella affrontata contro il Torino avevo detto già prima la partita il Torino è una squadra che sa giocare se noi gli permettiamo di giocare se non è il caso è una squadra complicata perché riesce a non far giocare all'avversario e sfruttare gli errori dell'avversario e quando vanno in vantaggio diventa una squadra pericolosissima in contropiedi. Noi siamo stati bravi a non permettere che vanno in vantaggio di equilibrare la partita per tanto tempo e poi sbloccarla con, ripeto, un bel gol e da lì in poi abbiamo portato la partita della nostra parte. L'altra cosa che le chiedo sulla partita di domenica se è con ovviamente caratteristiche molto diverse anche a livello di assetto se il Lecce è questo tipo di squadra che se va in vantaggio poi è pericolosa con i giocatori che ha il ripartimento. Beh, il Lecce è una squadra come tutte in Serie A però è una squadra complicata da affrontare l'ha dimostrato con altri avversari e avversari di spessore vanno veloci vanno veloci in attacco hanno esterni molto veloci esterni che sono pronti al recupero di contrattacare e squadra che è uguale se le permettiamo nei giocatori con qualità e lì dobbiamo fare quello che sappiamo fare sicuramente e essere vigili alla forza che ha questa squadra la forza che ha questa squadra nell'attacco veloce e nel contropiedi perché hanno giocatori di queste caratteristiche sanno quello che devono fare è una squadra molto preparata per il suo allenatore perché è un allenatore di esperienza l'allenatore sa che sa cosa vuole e lo trasmette nel suo gruppo nella sua squadra e si vede dopo in campo e noi, ripeto cercare di portare la partita della nostra parte giocando con equilibrio e ripetendo tante volte possibile è quello che dobbiamo mettere in pratica in campo L'altra cosa che le chiedo è se nel momento di questo bell'inizio c'è anche tanto del lavoro che fate quotidianamente dal punto di vista atletico in campo nel senso che per dati atletici siete praticamente una delle migliori squadre del campionato quindi penso anche al lavoro di Simone non solo di Simone Simone sicuramente Simone Colline una persona molto preparata che viene di avere stato anche tanto tempo nell'alto livello come una squadra del Paris Saint Germain però tanti altri il dottore il staff medico i fisioterapisti perché tanti di loro magari arrivano dopo una partita con un piccolo problema ma riescono a recuperare perché i fisioterapisti li stanno indietro cercano di istruire cosa devono fare cosa devono evitare come recuperarsi meglio il prima possibile poi c'è Federico la nutrizione Nico Prandelli Paolo tante persone che lavorano qua dentro che che riescono a a mettere in condizione questi ragazzi perché la prossima partita possa arrivare possa arrivare al meglio possibile poi come sempre la disponibilità loro la disponibilità dei ragazzi di ascoltare e soprattutto di mettere in pratica di farlo per dare priorità a quello che è la nostra priorità il lavoro e il calcio e così andare in avanti di settimana di giorno in giorno settimana in settimana lavorare bene Massimo ti vuoi chiedere il Presidente sicuramente sarà contento di questa classifica tu gli hai parlato gli parli adesso se ti chiedo se anche il Presidente pensa solo a Lecce tu giustamente mi dici bisogna chiedere la Presidente ma non so lui ti ha proposto ti ha detto beh andiamo avanti insieme io metto i soldi tu metti le idee e facciamo un Bologna anche per il futuro se ci sono novità le saprete sul futuro Presidente non abbiamo parlato di di come o se no se sì come il Presidente è il Presidente e noi facciamo il nostro lavoro un'altra domanda che sembra filosofica ma invece d'attualità e tu hai seguito anche di rimbalzo il dibattito che c'è in Italia dopo queste violenze contro le donne purtroppo la società d'Italia è patriarcale il calcio è patriarcale faccio un esempio banale ci sono delle bravissime colleghe giornaliste che a volte devono dimostrare di essere più brave dei colleghi uomini perché altrimenti ci può essere qualcuno che dice ma perché parlano di calcio e questo è patriarcato ecco ti chiedo se hai questa sensazione non deve essere così se ho la sensazione o no non è importante l'importante non deve essere così come no alla violenza ma di nessun genero di nessun genero e soprattutto con soprattutto soprattutto con le donne o tre figlie o una moglie o una madre o delle amiche o degli amici vogliamo vivere in una società civilizzata e che si possa rispettare umanamente parlando e poi sicuramente sul lavoro che si possa rispettare o di nessuno o di nessuno e poi sicuramente di nessuno e quindi mi piace